un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo nel giardino oggi qui per leggervi uno stralcio di una lettera che padre pio scrive nell'agosto del 1913 in questa giornata a padre agostino dove racconta le sue eccessive ansie che spiega sono un perditempo nelle vie dello spirito ecco avrei il desiderio di dirvi tante cose belle tutte di gesù dice padre pio ma mi avvedo che ciò deve rimanere un più desiderio solamente perché le forze che da diversi giorni me le sento venir meno non me lo permettono ma sia benedetto gesù padre pio ovvero fra pio da pietrelcina era pietrelcina una strana malattia lo costringeva a stare a casa non poteva stare in convento allora lui si racconta di letto padre le vostre ansie in riguardo al vostro spirito perché a me sembra essere queste un vero perditempo per il vostro eterno negozio e quel che è peggio per molte di queste ansie che in sé possono essere sante e per la nostra fragilità e per il soffiare potentemente che vi fa il demonio vengono tutte le nostre belle azioni sempre permettetemi l'espressione sporcificate da qualche po di mancanza di confidenza nella bontà di dio è un sottilissimo filo è vero che tiene legato lo spirito ma impedisce però grandemente a questo di spiccare il suo volo nelle vie della perfezione agire così con santa libertà e qui ancora padre pio scrive al suo padre spirituale vi consoli caro padre il dolce pensiero di amare gesù e di essere assai di più da lui riamato quante volte questo bacio di pace a noi sacerdoti specialmente ci viene dato da gesù nel santissimo sacramento sì desideriamolo ardentemente questo bacio dalla bocca divina e più ancora mostriamo cene riconoscenti qual più caro dono possiamo noi miseri mortali desiderare da dio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti